Ciao e benvenuti in questa nuova playlist nella quale passeremo in rassegna le conte o le false conte più utilizzate in magia e le loro applicazioni. Quindi vedremo conte che permetteranno di nascondere delle carte, conte che permetteranno di contare più carte rispetto a quelle che abbiamo realmente in mano, conte per diminuzione, quindi contare meno carte di quelle che abbiamo realmente in mano o conte che ci permetteranno di far vedere più di una volta le stesse carte, quindi nascondere delle carte in mano. Grazie 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 Grazie